ah quelli questi qua questi qua non so cosa sono esattamente mi sembrano due Oscar forse due insieme e al pezzo di cui adesso è il prima di cui parlavo prima quello abbiamo suonato un pari di volte in giro e adesso è di nuovo in fase B cioè magari lo stiamo mettendo posto adesso vediamo per farci e io al piano lo suono proprio in due parti quella lì il titolo si chiama proprio quella lì che come titolo si ispira a quella la tra l'altro quella la che è quella la tipo ok comunque un altro quella lì la volta è un blocco dello scrittore un vero blocco compositivo sul foglio bianco ci sto di ore non so che scrivere quando scrivo e penso lei a quella lì quella bionda che mi fana andare penso lei e allora si mi comincio e scrivo ore d'ore la 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 Io penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi farà andare, penso a lei, la luna sì, spingue il salto come un ascensore. La, 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 la. A volte un blocco dello scrittore, un vero blocco compositivo, su un colio bianco, un discogliore, non so che scrivere quando scrivo. E penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi farà andare E penso a lei, allora sì, ricomincio e scrivo ora ed ora E penso a lei, a quella lì, quella bionda che mi farà andare E penso a lei, lei guarda qui, ho già bella scritta una canzone La, 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 la questo è il pezzo vado a rispondere al telefono